Va al coro svedese di Dursholm la vittoria nella settantesima edizione del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo. Quando lo speaker della manifestazione, Virgilio Badì, ha letto il nome del gruppo vincitore, l'atmosfera all'interno della chiesa di San Domenico è esplosa come se fosse uno stadio. Incredula la direttrice del gruppo, che era già sul podio per essere stata premiata insieme agli altri direttori di cori partecipanti alla manifestazione. Anche nei vari premi di sezione, Encorsi era segnalato nelle sue performance, ma non c'è dubbio che la giuria internazionale ha ritenuto la coralità espressa da questo gruppo misto, composto da meno di dieci persone, come la migliore tra quelle che si sono esibite nella rassegna a retina. Bene anche gli spagnoli di Aurum, gli ucraini della Corale Sofia e anche i gruppi italiani, che hanno ottenuto vari riconoscimenti. Soddisfatto il direttore del polifonico Luigi Marzola. La vittoria di un gruppo che se lo merita, secondo questa giuria molto molto qualificata, siamo di fronte a un gruppo che fa cultura, che si trova regolarmente a fare tanto studio collettivo e pochi concerti. Anche gli italiani però non sa solo che va da male. Mamma mia, assolutamente no, ci sono stati tantissimi gruppi di buonissimo livello che infatti hanno avuto dei riconoscimenti importanti. Si è alzata l'asticella del polifoni. L'asticella del polifonico che è rappresentativa dell'asticella nazionale e internazionale. Senz'altro si sta alzando e ormai non potrà più scendere. Tra l'altro è stata anche azzeccata la scelta delle varie chiese, delle varie location. Assolutamente sì e non voglio prendermene il merito, ma invece sì. Nello specifico la serata si è conclusa con l'esibizione del coro giovanile italiano che ha strappato applausi con un vero tripudio dopo l'ultima esibizione. E questa volta, al contrario di Paganini, il bis è stato bene accetto da tutti.